C'è anche la Civitavecchese Nicoletta Golisano fra le vittime della sparatoria avvenuta ieri a Fidene, dolore di sgomento anche dal Presidente del Consiglio Meloni che era sua amica. Dopo una lunga discussione è stato approvato il provvedimento per la ricapitalizzazione di Civitavecchia a servizi pubblici da parte del Comune con 2 milioni di euro. 19 posti di lavoro in più entro il prossimo 31 dicembre alla centrale Enel di Torre Valdalica Nord è quanto deciso nel corso di una riunione fra i vertici dell'azienda e le organizzazioni sindacali. I Civitavecchiesi si preparano a sbarcare nuovamente all'estero ma solo dopo aver passato le festività natalizie in famiglia è quello che emerge da un giro di interviste alle agenzie di viaggio cittadine. Vittoria è primo posto confermato, il Civitavecchia ha battuto per 2 a 1 il Falaschelavinio al Tamagnini al termine di una partita poco spettacolare. Bene, ancora una buona serata e un ben sintonizzati sulla nostra emittente. Iniziamo subito purtroppo con la cronaca. C'è sgomento, cordoglio e solidarietà a Civitavecchia per la tragica scomparsa di Nicoletta Golisano, una delle tre donne barbaramente uccise ieri nella periferia nord di Roma da un e folle durante una riunione di condominio. Nicoletta Golisano trasferitasi da anni a Roma dove svolgeva la professione di commercialista era nata a Civitavecchia dove aveva effettuato il suo percorso scolastico ultimato al liceo classico Guglielmotti. Vediamo. C'è anche la Civitavecchiese Nicoletta Golisano, 50 anni compiuti da poco, tra le vittime della tragica sparatoria avvenuta ieri mattina a Fidene durante una riunione di condominio. Nata a Civitavecchia il 2 novembre del 1972 Nicoletta Golisano, da anni residente a Roma, è stata colpita dalla furia omicida del 57enne Claudio Campiti, originario di Ladispoli, che ha ucciso altre due donne e ferito quattro persone. A quanto sembra la 50enne Civitavecchiese stava partecipando alla riunione in quanto esperta in revisione dei conti, è stata raggiunta da un colpo di pistola ravvicinato ed è morta sul colpo. Nicoletta Golisano aveva intrapreso in città tutto il percorso scolastico, dal De Mattias di Piazza Verdi, dove aveva frequentato elementari e medie, al liceo classico Guglielmotti, dove aveva conseguito la maturità nel 1991. Il tutto prima di trasferirsi a Roma, dove viveva da oltre 30 anni e dove aveva un proprio studio di commercialista. Lascia il marito e un figlioletto di 10 anni. Dolore e sgomento anche del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che era sua amica, e ha voluto ricordarla con un post su Facebook. Nel post Meloni parla di Nicoletta come di una mamma protettiva, un'amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo, ma soprattutto di una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. La premier sottolinea che è stato quel senso del dovere a portarla lì, ieri mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco, assieme ad altre due donne. Infine un ricordo intimo. Nicoletta, conclude Giorgia Meloni, era felice e bellissima nel suo vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella e felice così. Addio Nico, ti voglio bene. I numeri ufficiali del Covid continuano a delineare una situazione di assoluta stabilità al cuo almeno per ora e i dati relativi al weekend appena trascorso continuano infatti a non destare particolarmente preoccupazione, anche se rispetto al fine settimana precedente si sono purtroppo registrati due decessi. Nel territorio appartenente all'azienda sanitaria locale Roma 4, stando ai report quotidiani diffusi come sempre dall'assessorato regionale alla sanità, fra venerdì scorso e ieri, a fronte di 38.800 tamponi effettuati, sono state certificate 362 nuove positività. Dal 2 al 4 dicembre scorsi con 45.700 controlli eseguiti i nuovi casi di Covid segnalati erano stati 417. C'è stata quindi una discreta diminuzione dei contagi in termini strettamente numerici anche se dal punto di vista percentuale il discorso è diverso. Il numero dei controlli eseguiti è infatti diminuito del 15,1% a fronte di un calo del 13,2% delle nuove positività. Va comunque sempre considerato che ormai i dati ufficiali rappresentano solo una parte del mondo Covid, visto che sono tantissime le persone che preferiscono controllarsi fra le mura domestiche utilizzando i tamponi in vendita nei supermercati. Non è quindi possibile avere un quadro davvero preciso della situazione. Matteo Salvini investe già su Civitavecchia poche settimane dal suo insediamento. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha già firmato un atto con le quale stanzia 3 milioni e 600 mila euro per l'autorità portuale. I fondi saranno destinati alla manutenzione straordinaria dell'attuale collegamento ferroviario. A dichiararlo è il capogruppo della Lega in Consiglio Metropolitano di Roma Capitale e consigliere comunale Antonio Giammusso. Si tratta di una prima conferma importante, conclude Giammusso, dell'interesse verso il nostro porto grazie alla Lega e al suo leader. Dopo una lunga discussione durata per tutta la mattinata e conclusasi nel primo pomeriggio è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza e quello del consigliere d'opposizione Vittorio Petrelli il provvedimento per la ricapitalizzazione di Civitavecchia a servizi pubblici da parte del Comune. Palazzo del Pincio verserà nelle casse dei CSP una cifra che al massimo sarà di 2 milioni di euro. A illustrare la delibera che prevede anche altri aspetti è stato l'assessore alle partecipate Daniele Barbieri. Assessore Barbieri ha illustrato la delibera per la ricapitalizzazione di Civitavecchia a servizi pubblici, c'è stata la discussione in aula, però poi alla fine la delibera è stata approvata. Soddisfatti? Sì, soddisfatti, è una delibera che comunque porta qualcosa di positivo a CSP. Abbiamo praticamente previsto con l'approvazione della delibera il ritienamento della parte del patrimonio netto negativo, la parte che era stata sospesa con la delibera 78 per il periodo del Covid, lo svincolo del vincolo, per termini di parole, del diviato di assunzioni per quanto riguarda solamente il servizio farmacie per due e tre unità in funzione del togliere i somministrati che erano stati utilizzati per le sostituzioni del personale specialistico che era andato in pensione e la questione relativa alla reinternalizzazione del servizio di portierato perché a seguito di un intervento del controllo analogo, a seguito di una relazione da parte dell'ufficio avvocatura del comune di Civitavecchia si è inteso reinternalizzare il servizio che era stato dato come somministrazione lavoro per rieffettuare nuovamente una gara d'appalto perché è possibile ridarlo come servizio di appalto. Le critiche dell'opposizione in particolare sono state relative al fatto che bisogna comunque ogni tanto mettere soldi all'interno di Civitavecchia Servizi Pubblici, a che punto è il percorso di risanamento di questa società del comune? Il percorso di risanamento, i dati sono positivi, il bilancio 2021 chiuso con un utile di 17.000 euro rispetto comunque ad un patrimonio netto negativo che abbiamo preso almeno da quando sono arrivato io con meno 4 milioni e 400 mila euro, i segnali sono di un trend positivo, certo, 2020 e 2021 fatto con pandemia Covid, una guerra, aumento indiscriminato dei costi relativi a materie prime, al metano per gli autobus e per i mezzi di trasporto, quindi diciamo che comunque costi che sono elevati in maniera dovuti a situazioni esogene non volute da nessuno purtroppo, però i segnali sono positivi, chiudere il patrimonio netto da negativo, riportarlo a positivo significa comunque dare una solidità alla società anche per quanto riguarda una questione di patrimonializzazione e comunque renderla appetibile anche a soggetti terzi, quali possano essere banche o società di investimento e quindi stiamo lavorando con tutta la maggioranza proprio per continuare il trend positivo. Una battuta sull'emendamento che sarà proposto dalla stessa maggioranza oggi durante il Consiglio? Sì, emendamento che di fatto cristallizza dei punti ancorando comunque un comportamento gestionale del Consiglio di Amministrazione volto alla positività e a continuare il trend positivo che stiamo portando avanti. E come detto il provvedimento di ricapitalizzazione di CSP è stato molto discusso all'interno dell'Aula Pucci, critiche vengono dal Movimento 5 Stelle da Fratelli d'Italia che hanno abbandonato l'Aula prima del voto e dal Partito Democratico che ha votato contrario. Sentiamo le motivazioni in queste interviste. Fratelli d'Italia, fuori dai banchi al momento della votazione sul delibera di ripianamento di CSP per 2 milioni di euro, perché questa decisione? Sostanzialmente è stata una forma di rispetto quella di non partecipare alla votazione nei confronti dei lavoratori di CSP, perché noi crediamo che la società in quanto gestore dei servizi pubblici essenziali debba rimanere a tutti gli effetti una società pubblica. La delibera 78 faceva secondo noi proprio lo spartiacque rispetto alla gestione precedente che si era avuta di CSP, sempre troppo politicizzata. Perché? Perché permetteva non solo di darle quella liquidità necessaria per l'immediato, ma soprattutto la patrimonializzava attraverso il conferimento di beni immobili e mobili, quindi mezzi, che avrebbe permesso alla società di vivere con le sue forze come qualsiasi altra società, fermo restando ovviamente il controllo pubblico essendo il comune il socio unico. Si crea sostanzialmente un coscinetto economico che va a essere utilizzato nel momento in cui la liquidità di CSP dovesse essere sofferente e quindi si interviene sempre in emergenza, cosa che non può gratificare noi come forza politica, ma non credo possa gratificare anche i lavoratori perché quando si parla di lavoro stabile, di sicurezza e di occupazione serena e tranquilla, in realtà si parla di una lungimiranza politica che dovrebbe essere al di là dell'immediatezza. Ma certo è che la scelta di continuare a foraggiare con soldi, con liquidità di cassa, piuttosto che con una razionalizzazione strutturale della società, non ci può lasciare indifferenti. Marco Pendi Bene, voto contrario da parte del Partito Democratico alla delibera di ricapitalizzazione di civile vecchie a servizi pubblici per un massimo di 2 milioni di euro, cosa non vi ha convinto e soprattutto siete intervenuti in particolare su quell'emendamento che ha un po' cambiato le carte in gioco proprio al momento della votazione, cioè prima della votazione. Sì, prima della votazione perché non si presenta un emendamento senza che la Commissione abbia potuto prenderne atto, ma poi in sostanza andando a leggerlo, siccome non c'è nessuna sanzione ove non venissero rispettati i capisaldi presenti in quell'emendamento, è un'aria fritta che è servita comunque a trovare nella maggioranza una guadratura del cerchio che forse non avevano. Il problema è che è sempre il solito che ai problemi di CSP si risponde con una capitalizzazione di 2 milioni di euro che saranno sempre i cittadini di Civitavecchia a dover pagare. Io ho portato l'esempio del veramente Casperino del Carbonaro quando faceva i conti, insomma, no qui, quando devono pagare pagano i cittadini di Civitavecchia, quando c'è la possibilità di avere un utile come per esempio per il trasporto croceristi ci sono altri che fanno l'utile e che praticamente è una strada che lasciamo percorrere come vantaggio ad altri piuttosto che a noi, questo è inaccettabile. Bisogna cambiare registro e lavorare proprio sulla società? Ma è chiaro che noi siamo ovviamente per mantenere la società pubblica facendo in modo che venga risanata e che ovviamente lavori sempre meglio, però non può essere che ogni volta che servono i soldi li mettono i cittadini di Civitavecchia. 2 milioni di euro ancora una volta per ricapitalizzare quello che evidentemente diventa un pozzo senza fondo. Enel torna ad assumere a Civitavecchia. La grande azienda energetica ha programmato l'assunzione di 19 persone come operatori della transizione energetica. In una prima fase i neoassunti saranno utilizzati all'interno dell'impianto di Torre Valdaliga Nord. È stata prorogata il 30 giugno 2023 anche la mobilità dei dipendenti arrivati a Civitavecchia da altre realtà per potenziare l'organico della centrale. Vediamo. 19 posti di lavoro in più entro il prossimo 31 dicembre alla centrale Enel di Torre Valdaliga Nord. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi nel corso di un incontro che ha visto di fronte l'azienda termoelettrica e le organizzazioni sindacali Filctem, CGL, Flaei CISL e Wilwiltec convocato per fare il punto della situazione alla luce della ripresa dell'attività produttiva di siti che fino a un anno fa erano interessati da un processo di progressiva dismissione e dello stato di avanzamento dei progetti riguardanti la transizione energetica. Nel primo caso la ripresa delle attività di centrale ha portato non solo a sospendere in qualche caso i pensionamenti già previsti ma anche a favorire la collocazione nell'organico dell'impianto di Torre Valdaliga Nord di personale proveniente da altri siti termoelettrici. E il distacco dei dipendenti arrivati da altre realtà che doveva concludersi il prossimo 31 dicembre è adesso stato prorogato al 30 giugno 2023. Con le nuove 19 assunzioni l'impianto a carbone torna ad avere la stessa consistenza di personale degli ultimi anni, quelli che hanno preceduto l'annuncio del phase-out dal carbone. Si tratta in ogni caso di assunzioni che rientrano nel percorso verso una generazione completamente rinnovabile avviata da tempo da Enel, tanto che si parla di operatori della transizione energetica. Il personale assunto opererà Torre Valdaliga Nord finché permarrà la situazione che ha determinato l'incremento di funzionamento degli impianti a carbone, dopodiché è prevista la ricollocazione presso altre unità nella generazione Enel. Alla luce anche di altre iniziative assunte dall'azienda sotto il profilo occupazionale, le organizzazioni sindacali presenti all'incontro hanno giudicato produttiva la modalità del cosiddetto tavolo aperto, ovvero del periodico aggiornamento della situazione con il conseguente monitoraggio del programma aziendale. Per Filtek, Flaei e Wiltek inoltre è diventato improcrastinabile affrontare la questione legata al riconoscimento dell'impegno profuso dai lavoratori in questa fase emergenziale, rappresentata dal ritorno alla massima produzione degli impianti. Al riguardo viene giudicata favorevolmente la disponibilità manifestata da Enel ad affrontare il tema nel proseguo degli incontri. E rimaniamo in tema, una manifestazione per dire no al biodigestore, quella che si è svolta ieri in corso Centocelle, unita idealmente alla mobilitazione nazionale dell'associazione dei comitati aderenti al movimento delle magliette bianche per la bonifica dei siti inquinati. Respingiamo il progetto del biodigestore, affermano da Vitavecchia Bene Comune, che racchiude tutte le associazioni impegnate sui temi ambientali perché non risponde ad alcuna corretta gestione dei rifiuti secondo i principi dell'economia circolare a cui contrapponiamo valide alternative praticabili. Non risponde ad alcuna esigenza delle comunità locali ma unicamente ad interessi privati di chi cerca quindi un posto per i propri affari. E nel recente passato erano anche state raccolte 5.000 firme con le quali i cittadini avevano manifestato il loro dispenso alla nascita di un biodigestore nel nostro territorio che dovrebbe trattare 120.000 tonnellate di rifiuti provenienti da altre città, firme ufficialmente depositate presso la regione Lazio. L'associazione Civitavecchia C'è torna a parlare del biodigestore, afferma che l'iter come velo corre veloce verso la realizzazione e quindi si rivolge ai politici, ai movimenti, ai comitati e in special modo ai civitavecchiesi che intendono difendere il territorio affinché si riuniscano e mettano in atto tutte le forme di protesta più efficaci per evitarne la realizzazione. Col Covid-19 parzialmente alle spalle si torna a viaggiare soprattutto all'estero, crescono in città le prenotazioni nelle agenzie viaggi anche se i civitavecchiesi preferiscono partire solo dopo aver passato in casa le vacanze di Natale. Vediamo. I civitavecchiesi si preparano a sbarcare nuovamente all'estero ma solo dopo aver passato le festività di Natale, Capodanno compreso, in famiglia. È quello che emerge da un giro di interviste all'Agenzia di Viaggio Cittadine che raccontano di un incremento delle prenotazioni che può definirsi importante se si paragona all'era Covid-19 e buono se si confronta con il periodo pre-pandemia. Le cose vanno bene, racconta Marzia dell'Agenzia La Placita Viaggi e devo dire che da quando faccio questo lavoro non ho mai fatto questi numeri. I civitavecchiesi hanno una gran voglia di tornare a viaggiare soprattutto all'estero ma a gennaio e febbraio e non nel periodo di Natale. Il motivo principale di questo dato è legato al fatto che viaggiare nel periodo delle feste di Natale può costare anche oltre il triplo rispetto agli altri periodi dell'anno. I voli infatti sono a prezzi altissimi a meno che non si sia prenotato con largo anticipo ma probabilmente sono stati in pochi a farlo, bloccati dallo spettro coronavirus si desiste dall'acquistare biglietti. Si aspetta dunque gustandosi la cena della vigilia dell'ultimo dell'anno, il pranzo di Natale, quello del primo gennaio insieme ad amici e parenti per poi partire a gennaio e febbraio. Come detto si punta nuovamente all'estero, vero tabù nel periodo della pandemia. In testa per distacco nelle classifiche delle mete più prenotate c'è Sharm el Sheikh seguita dagli Stati Uniti. Fanno parzialmente eccezione le crociere di Natale e Capodanno in partenza da Civitavecchie dirette in Spagna, in Francia e in Grecia che tornano a far registrare ottimi numeri agevolati dalla comodità per i Civitavecchiesi di partire direttamente da pochi chilometri da casa. C'è chi preferisce quindi rinunciare a cenoni abbuffate in casa per staccare la spina in giro per il Mediterraneo. I numeri sono in crescita, continua Riccardo dell'agenzia Caccia al Viaggio, anche se non siamo ancora ai livelli pre-pandemia. Prima si era praticamente obbligati a restare in Italia, adesso si torna all'estero. Antonella Nedda per Poesie di donne e Francesca Mannocchi per il giornalismo sono le vincitrici delle tre sezioni della prima edizione del premio Scalfari promosso da Spazio Libero Blog, Blue in the Face e Bookface che vivrà il suo momento clu mercoledì alle 17.30 al Teatro Traiano per la premiazione ufficiale alla presenza della qualificatissima giuria di altri importanti esponenti del mondo del giornalismo e della cultura. La serata sarà condotta da Gino Saladini e la lettura dei testi sarà affidata a Maria Grazia Calandrone e a Pino Quartullo. L'articolo di Luciana Castellina, ricordo di Eugenio Scalfari, sarà invece letto da Corrado Augias. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi tra poco dopo il break e torniamo con la pagina sportiva. La pagina sportiva, un cipita vecchia sporco, naturalmente stiamo parlando di calcio brutto e vincente, come richiesto dal tecnico Bifini ha superato il Falasche Lavinio mantenendo il primo posto in classifica nel girone A del campionato di eccellenza. Altamagnini e Neroazzurri si sono imposti per 2-1 al termine di una partita. Poco spettacolare. A sbloccare la gara ci ha pensato Fatarella al minuto tredicissimo con il cipita vecchia che aveva tante assenze, che ha poi abbassato il ritmo e ha amministrato la gara senza subire grandi occasioni dagli avversari. Nel secondo tempo è entrato in campo il giocatore più atteso, cioè il bomber Manuel Vittorini, che naturalmente non ha tradito le attese e ha segnato la rete del 2-0 a 10 minuti dal termine. In pieno recupero invece è arrivata la rete del Falasche Lavinio ad opera dell'ex di Dionisio. Ruggero e compagni adesso sono a quota 31, sempre con un punto di vantaggio sull'ansio. Vediamo l'intervista. Mister, qualche settimana fa aveva chiesto alla sua squadra di essere brutti, sporchi e cattivi. Oggi è contento in questo senso, anche se avete concesso all'ultimo il gol? Ma sai, a me la perfezione non mi piace. Secondo me quando c'è la perfezione significa che i ragazzi non possono migliorare. I ragazzi devono prendere consapevolezza dei propri difetti per accrescere e per farli diventare pregi. La partita l'abbiamo amministrata in maniera penso buona, siamo stati solo 1-0 fino a gran parte della partita, poi ho fatto con Vittorini. È lì che voglio un po' più gestione della palla. È vero che non hanno creato problemi esagerati, la partita si era indirizzata già sul binario giusto, però vorrei qualcosina in più, qualcosina in più. Niente, l'importante era vincere, ecco la partita scorsa non avevamo subito gol. Ecco, non io a me che posso dire il gol subito perché dobbiamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, però secondo me potevamo evitare anche il gol subito proprio allo scadere. È questo che voglio inculcare nella testa dei ragazzi, sto parlando di mentalità, sto parlando di spirito di gruppo, i ragazzi stanno facendo molto bene sotto questo punto di vista. Avete visto Vittorini, cioè non fa giocare Vittorini non perché, non sono matto assolutamente, ma perché appunto aveva questo dolore che non gli permette di allenarsi continuamente. però ha fatto 20 minuti, ha fatto gol, ho fatto tutti e 5 i cambi, la Rosa è competitiva. Cosa c'è da dire? C'è da dire di continuare su questa strada, vedo anche sugli spalti gruppi organizzati di tifosi, incomincia ad esserci l'entusiasmo che piace a me, a tutta la città, a tutta la cittadina. Non portiamo in giro per il Lazio e non le Civitavecchie, quindi magari ce ne fossero di gruppi così di tifosi in queste categorie. E quindi andiamo, andiamo. Soffio di uscioso, ormai non abbiamo fatto nulla e tutto qua, tutto qua. Passiamo alla pallavolo. Le sensazioni positive dopo la vittoria contro l'Arnopolis sono purtroppo già finite. Per la 3PC Civitalad è arrivata una sconfitta di quelle che bruciano. Le rosso-blu si sono rese per 3-0 sul parquet del Pian Disco, con cui condivideva lo stesso numero di punti prima di scendere in campo. Per tutta la gara la formazione di Luca Oggioni è stata sotto nel punteggio e non è mai riuscita ad andare addirittura oltre i 17 punti in un 7. Un deciso passo indietro, quello della Civitalad, per la quale non resta molto da salvare per quanto riguarda la prova espressa. Ora la 3PC è penultima in classifica, in piena posizione da retrocessione, a meno 3 dalla zona play-out. Passiamo alla palla canestro sconfitta con partita non proprio esaltante per la Stemar 90 cestistica, che ha perso l'incontro sul parquet della capolista Grotta Ferrata. Il match valevole per il campionato di Serie C Gold si è chiuso sulle 96-76 per la prima della classe. La una gara in cui il quintetto di Massimiliano Biscese non è mai stato sulla stessa lunghezza d'onda degli avversari, avanti già di 12 punti alla fine del primo quarto. Nel secondo e nel terzo parziale i criptensi hanno ulteriormente allargato le maglie e solo nell'ultima frazione di gioco Campogiani e compagni sono riusciti a ridurre un pochino il passivo. Classifica sempre deficitare e preoccupante per i rossoneri, ancora al penultimo posto. Veniamo a Rabi. Era una gara quasi impossibile, il campo lo ha fatto ampiamente vedere. Il CRC è uscito sconfitto dalla gara sul campo della Lazio per 61-0. I biancocelesti scesi dal top 10 sono una delle candidate al salto di categoria. Decisamente troppo per sperare in una giornata di punti per la squadra di Mauro Tronca che in attacco è rimasta completamente a secco. Ora sono 6 punti di vantaggio nei confronti della zona play-out. Passiamo al calcio a 5. La Futsal ha fatto un altro giro sulle montagne russe. Stavolta è stato un bel giro quello della squadra di Umberto Di Maio che ha bloccato la capolista a Palombara per 2-2 all'Ivan Lottatori. Nonostante i problemi di formazione, i Neuroazzurri hanno offerto una delle migliori prestazioni stagionali contro una squadra candidata alla vittoria del campionato. Particolarmente ispirato Simone Mondelli, autore di Entrambi le reti. Passiamo al pugilato. È durato appena 4 minuti l'incontro di Emiliano Marsili contro Fabrizio Ferreri. Il tizio si è imposto dopo un minuto dall'apertura del secondo round per K.O. tecnico. Dopo i primi minuti di studio il pugile allenato da Mario Massai non ha avuto problemi a fare suo il combattimento. Numeroso il pubblico presente al Palade Angelis di Santa Marinella per sostenere il pugile Civitavecchiese accompagnato anche questa volta sul ring dal frontman dei Tiro Mancino Federico Zampaglione. Bene, con il pugilato termina la nostra edizione serale del telegiornale ma comunque voi potete rimanere sempre collegati con la nostra emittente sui canali social, precisamente Facebook, YouTube, Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Ancora una volta per quanto mi riguarda è tutto, io vi ringrazio per la gentile attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata.